Ancora ben trovati dalla redazione di Tirance Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della regione, raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Arezzo e Incidareggello in direzione nord. Sempre in A1 segnaliamo che l'area di servizio Arnoest in direzione nord è segnalata come sovraffollata. Lo sguardo a traffico ferroviario sulla linea alta velocità Bologna-Milano, circolazione rallentata per un guasto alla linea, è in corso l'intervento dei tecnici. I treni a alta velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Piacenza e Milano, anche i treni in transito da Firenze, registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 35 minuti. Prima di salutarci per il traffico aereo sono dirottati su altri aeroporto, i voli Firenze-Bruxelles delle 11.30 e Firenze-Londra delle 12.10. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Reggio Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!